Un altro autore veneto, un altro scrittore veneto è Roberto Ferrucci. Com'è andata quella volta? Roberto Ferrucci è un veneziano doc, abita proprio in una isola della laguna e quindi con una giornata particolarmente bella abbiamo girato in vari posti della laguna e alla fine mi è piaciuta questa foto perché in qualche modo è poco vera cioè la pineta non si associa all'immagine di Venezia, in realtà ci sono anche quelle quindi mi piaceva un po' questo contrasto con lo sfondo che invece era tipicamente veneziano con invece una vegetazione che non lo era e quindi credo che la foto sia piaciuta anche a lui e abbiamo scelto questa.